Si è riunito nuovamente questa mattina il tavolo anticrisi convocato dall'assessore del Comune di Pesaro con delega alle attività economiche Francesca Frenquellucci e a cui tra gli altri hanno preso parte anche le associazioni di categoria. Queste ultime sono tornate a ribadire le esigenze manifestate dalle attività cittadine piegate dalla crisi generata dal Covid. Al centro delle richieste per i pubblici esercizi, l'erogazione dei ristori e la possibilità di tornare ad aprire anche in zona arancione. Le richieste prima di tutto ringraziamo il vicepresidente regionale Carloni che parteciperà anche perché così abbiamo l'interlocutore principale a cui fare determinate richieste. Le richieste sicuramente sono dei bandi mirati, sapere qual è la situazione finanziaria che ci sarà nel 2021 di possibilità per poter richiedere i ristori necessari per le nostre attività e tutto quello che possiamo lavorare noi con la regione di concerto per risolvere le problematiche che stanno affliggendo le nostre categorie. Il commercio e il settore della ristorazione sono allo stremo ormai, quindi noi cerchiamo in tutti i modi da nazionale fino al locale di trovare una soluzione per poter riaprire e soprattutto di avere questi benedetti ristori che ce n'è un gran bisogno, quello assolutamente sì. Ormai è diventata una cosa di estrema necessità e non se ne può più fare a meno in questo caso, sì, dobbiamo assolutamente riaprire. Come avevamo promesso durante l'incontro avuto con i ristoratori e le categorie in difficoltà, abbiamo riconvocato il tavolo anticrisi, questa è l'ottava volta dove hanno partecipato gli enti che già avevano in questi mesi, hanno sempre dato il loro contributo e questa volta abbiamo avuto anche la partecipazione dell'assessore Carloni delle attività produttive della regione Marche in questo modo siamo riusciti ad arrivare anche più diretti a delle richieste e in più ci ha fatto molto piacere, hanno partecipato anche i consiglieri regionali Michela Vitri, Andrea Biancani e il consigliere Nicola Baiocchi. Abbiamo posto alla regione l'importanza di stanziare dei fondi direttamente nei territori perché noi dai comuni riusciamo più velocemente a captare e capire l'esigenza dell'impresa, quindi è fondamentale che noi lavorando in sinergia con la regione possiamo in questo modo erogare più velocemente in modo celere le risorse per quelle attività che sono in difficoltà. Oltre a questo abbiamo fatto presente che alcuni ristori, purtroppo delle categorie, alcuni codici a teco sono rimasti fuori come quelli delle affessioni e delle pubblicità, loro purtroppo sono in difficoltà perché non rientrano nel decreto ristori, come ad esempio abbiamo fatto presente quelle attività che hanno codice a teco, partita IVA e propria ragione sociale ma sono collegati ai circoli. Queste attività purtroppo sono bloccate, hanno ricevuto i ristori, però a differenza degli altri bar che possono comunque fare consegne a domicilio o a sporto sono bloccati e devono rimanere chiusi. Ho visto un'apertura da parte dell'assessore Carloni, anzi disposto immediatamente a risolvere il problema quindi questo significa che lavorando e facendo le giuste proposte chiaramente sensate con possibilità si può fare. La regione ha delle competenze che sono diverse dai comuni e quindi facendo le richieste giuste l'importante è sempre arrivare all'obiettivo. Grazie a tutti.